All'incontro dei comuni colpiti dal maltempo con il governatore Acquaroli c'era anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Per il suo comune la conta dei danni riguarda principalmente la frazione di Marotta. Qui la zona nord è ancora una volta la più colpita, un quartiere vulnerabile per i mancati lavori compensativi della terza corsia della 14. Una storia, denuncia il sindaco, ben nota da anni. Le somme urgenze sono all'incirca sui 20.000 euro, poi stiamo facendo diversi sopralluoghi sul territorio per verificare le restanti criticità. Almeno 100.000 euro i danni alle strutture comunali tra infiltrazioni strade e sottopassi allagati, poi c'è il delicato fronte dei privati. Questa volta le vie allagate sono state inferiori rispetto agli eventi precedenti, degli anni precedenti. A fare la differenza durante l'ultimo nubifragio il canale di raccolta delle acque che si sta costruendo proprio a Marotta Nord, un'opera da 3 milioni di euro per scaricare le piogge in mare. Nell'area dove stiamo intervenendo abbiamo visto dei grossi miglioramenti, quindi via Corfu, via Ferrari, via Vetti, quindi la zona delle scuole che abbiamo tenuto chiuse per due giorni in via precauzionale, però ad esempio in questa occasione non si sono allagate. Il 30% del canale è stato costruito, ora manca la fase più delicata, l'attraversamento sotto la statale e la ferrovia. Abbiamo chiesto appunto ai vertici regionali di aiutarci ad abbattere le tempistiche e cercare nei primi mesi del 2025 di effettuare questo attraversamento in modo tale da completare tutto l'intervento. Grazie.